Grazie, buongiorno a tutti. Sono abbastanza inizialmente, perché credo di non essere così, non sono in campo, ma ci siamo già fatti avanti a prima di questi anni da tentatori, molto più adesso. Voglio ringraziare voi per questo riconoscimento molto importante, grande privilegio per me davvero. Volevo ringraziare però anche la mia città, di nuovo alle Colegliano, che ha fatto il secolo 8, per avermi dato questa grandissima opportunità, la possibilità di poter lavorare per una nazionale estera, perché è una cosa semplice, capisco le difficoltà che una produttiva può vivere, però per me è grande privilegio aver compagliato anche i nomi di Colegliano, perché è comparsa anche in questi. Non lo so, è davvero bello vincere all'estero l'italiano e adesso veniamo qua in Italia, davvero molto bello. Grazie a tutti per questo momento difficile da dimenticare sicuramente. Grazie davvero.